Sicuramente avrai familiarità con la seguente situazione. Stai configurando i tuoi campi e desideri creare diverse linee di passaggio sul tuo terminale Smart Touch. Uno per la direzione di taglio principale e molti altri per modificare le diverse operazioni e le linee di marcia a fine campo. L'anno successivo si desidera utilizzare queste linee salvate, ma hai varie linee di passaggio a tua disposizione e devi trovare e attivare manualmente la linea di passaggio appropriata molte volte mentre lavori sul campo. Questo non è ideale. Cosa fare, quindi? Valtra ha la soluzione al tuo problema. Wayline Assistant include le modalità addizionali Segmented Waylines e Single Contour. Disponibile per tutti i trattori Valtra configurati con Smart Touch e Valtra Guide. Puoi avviare la Segmented Wayline sul trattore e chiudere l'applicazione dopo aver creato tutte le linee. Dopo che le Segmented Waylines sono state create e salvate, il sistema consente di creare un confine di campo dai singoli segmenti. Sul campo il trattore rileva automaticamente in quale segmento si trova e indicando anche la posizione e la direzione di tutti gli altri segmenti. Durante il funzionamento il sistema passa automaticamente alla linea di passaggio appropriata. La modalità Segmented Waylines ti consente di creare in modo semplice e veloce delle linee di passaggio, rilevare automaticamente la linea di passaggio appropriata durante l'avvicinamento, combinare tutte le linee di passaggio rilevanti in un'unica unità, creare automaticamente i confini del campo in base ai segmenti di contorno e aumentare la qualità del lavoro grazie all'utilizzo coerente del sistema di guida a fine campo. La nuova modalità Single Track, Single Contour, consente la registrazione di una linea di passaggio con contorno libero. Ciò significa, ad esempio, che è possibile registrare tutti i binari guidati per lavori di cura delle colture, come la protezione delle colture o in capezzagna, come una linea di riferimento. Per le operazioni ripetute, la combinazione trattore-attrezzo viene guidata automaticamente attraverso l'interno campo. Con il tipo di tracciato in modalità Single Contour, si beneficia del sistema di guida anche per le colture che non sono state seminate con il sistema stesso. Riduci e ottimizza il carico di lavoro grazie alle manovre di svolta automatiche. Ora puoi concentrarti completamente su piante e colture, tenendo conto degli ostacoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.